Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. La televisione italiana ha appena perso un popolare giornalista e opinionista. A dare l'annuncio è stata l'emittente televisiva per cui lavorava, e lo ha fatto con questo breve comunicato. Ho una terribile notizia da darvi. Purtroppo è morto il mio e nostro caro amico. Solo chi ha avuto la fortuna di frequentarlo dentro e fuori dagli studi televisivi sa che straordinaria persona fosse. Dire che ci mancherà non rende l'idea del vuoto che proviamo. Qualche minuto dopo è arrivato anche il ricordo di Luciano Moggi, suo grande amico, che ha scritto «Oggi ci hai lasciati, ma il tuo ricordo e tutto quello che abbiamo vissuto insieme non potrà mai essere cancellato. La tua amicizia, il tuo sostegno costante anche nei momenti difficili saranno sempre con me. Riposa in pace, amico mio». Un paio d'anni fa sarebbe stato vittima di un malore e si sarebbe sottoposto ad un delicato intervento. Ma sulle sue condizioni di salute degli ultimi tempi non ci sono notizie precise. I tifosi della Juventus erano abituati a vederlo in tv nelle emittenti locali del nord, con un look spesso pittoresco e la volontà di gettarsi nel fuoco per quella che era una delle sue passioni più grandi. La vecchia signora. Immagini che, da oggi, rimarranno impresse nella memoria e nel cuore. Cesare Pompilio è morto all'età di 73 anni. A dare l'annuncio tramite il proprio account Twitter è stato Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ovvero l'emittente che ospitava le apparizioni di Pompilio, popolare giornalista e opinionista televisivo. Una notizia che lascia grande tristezza tra tutti gli appassionati di calcio e amanti delle trasmissioni di intrattenimento sportivo. Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.